Buonasera a tutti, sono Massimo Mori, presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino e vi do il benvenuto a questa conferenza del professor Wolfango Plastino su radioattività ambientale, naturale, industriale e militare. Il tema della radioattività è un tema, come tutti sanno, di grande interesse, anche se questo interesse non sempre è motivato positivamente, perché molto spesso la radioattività è legata alla produzione artificiale dell'energia nucleare, sia nei suoi usi militari sia nei suoi usi pacifici. Quando pensiamo al nucleare la prima cosa che ci viene in mente sono ancora le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, oppure la guerra fredda o ancora il pericolo di un uso di armi nucleari da parte delle potenze che le detengono. Ma anche se guardiamo la produzione artificiale di energia nucleare rivolta a scopi pacifici, a volte ci sono ragioni di preoccupazione, non solo perché, come tutti sanno, si sono verificati gravi incidenti nelle centrali atomiche, ricordiamo Chernobyl nella ex Unione Sovietica nel 1986 e Fukushima in Giappone nel 2011, ma anche perché anche la gestione ordinaria della produzione dell'energia nucleare presenta dei problemi per quanto riguarda ad esempio le scorie, anche l'impatto della radioattività nell'atmosfera, eccetera. Bisogna dire però che in realtà l'energia nucleare ad uso pacifico presenta anche molti altri vantaggi, continua ad essere una alternativa valida ad altre forme di produzione energetica, sia perché in qualche modo ci libera dalla dipendenza dalle fonti di energia petrolifera, sia perché garantisce anche un minore, garantirebbe un minore impatto ambientale, in quanto la produzione di energia di anidride carbonica è molto inferiore, sia anche per molti altri vantaggi, costi, eccetera. Tuttavia ciò che forse l'opinione pubblica non ha sempre ben presente è che il tema della radioattività non deve essere connesso necessariamente alla produzione artificiale di energia nucleare, sia essa per uso militare, sia essa per scopi pacifici, ma c'è anche un uso naturale degli isotopi radioattivi che come molti sanno sono usati spesso in molti campi di applicazione nella medicina, per esempio sia diagnostica sia terapica, nell'ambito della conservazione dei beni culturali, soprattutto per determinare le datazioni dei reperti, nella pratica giudiziaria per accertamenti, per costituzioni di prove e soprattutto nello studio dell'ambiente terrestre, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, che riguardano la dinamica atmosferica e oceanica, la tettonica, la vulcanologia, eccetera. Quindi tutto questo ci fa capire che il problema è piuttosto complesso e una valutazione complessiva richiede quindi una forma di consapevolezza la quale a sua volta richiede una buona informazione, una maggiore informazione di quanto forse non sempre è disponibile. Perché ovviamente per poter giudicare bisogna prima di tutto avere una buona cognizione di causa. Ecco che per questo ci è sembrato opportuno far intervenire oggi un esperto di questo settore, il professor Bolfango Plastino, che è ordinario di fisica applicata nell'Università degli Studi di Roma III ed è associato, ed è a un incarico di ricerca nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Inoltre attualmente il professor Plastino è professore distaccato presso il centro linceo interdisciplinare e beniamino segre nell'ambito del progetto di ricerca radioattività ambientale, analisi scenari naturali, industriali e militari. Ed è proprio in base a questo progetto che possiamo fruire stasera di questa conferenza. perché il progetto prevede appunto anche la produzione di conferenze presso il pubblico con la collaborazione di altri istituti culturali oltre ai lincei di modo da promuovere appunto la diffusione della cultura su determinati problemi relativi al progetto. Il professor Plastino riveste poi molti altri incarichi, l'elenco sarebbe lungo e forse anche noioso, quindi mi limito a quello che forse è il più importante tra tutti questi, il professor Plastino è componente del gruppo consultivo permanente per l'assistenza tecnica e la cooperazione dell'Agenzia Internazionale per l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il suo ambito di ricerca ha interessato sia il campo sperimentale sia quello teorico, quello teorico della modellistica numerica. In particolare studiando quel campo di applicazioni nucleari che riguarda non solo l'uso pacifico ma diciamo l'uso più naturale appunto degli isotopi radiattivi al quale facevo riferimento prima. Faccio alcuni esempi che danno una chiara cognizione di quanto sia vasto l'ambito di pertinenza degli studi del professor Plastino. Estensione del massimo limite di datazione del radiocarbonio mediante spettrometria a scintillazione liquida, misura diretta della radioattività in fluidi endogeni, determinazione delle variazioni di uranio in acque sotterranee correlate con processi geodinamici di origine tettonica, modelli di trasporto lagrangiano di radionuclidi in atmosfera e oceano conseguenti a incidenti industriali nucleari o a test nucleari e studio dei processi diffusivi della stratosfera troposferica di interesse climatico. Quindi vedete che l'ambito di interesse del professor Plastino è veramente molto esteso e si concentra su queste applicazioni pratiche, applicazioni sperimentali dell'uso della radioattività. Non penso di dover aggiungere altro perché non vorrei rubargli tempo prezioso, siamo benvenuti qui per sentire lui e non me, quindi gli do subito la parola, gli cedo subito la parola e lo ringrazio Sindora per la sua disponibilità. Grazie, la parola al professor Plastino. Grazie e buonasera, sono io a ringraziare lei, Presidente Mori, per questa bellissima presentazione e ringrazio l'Accademia delle Scienze di Torino per questa gradita opportunità di dialogo con i colleghi e con il pubblico collegato sul tema della radioattività. Come lei ha introdotto, questo tema soffre di un pregiudizio negativo derivante in modo particolare dall'uso da Hiroshima e Nagasaki e dagli incidenti industriali di Chernobyl e Fukushima. ma forse nel nostro paese, oltre a questo pregiudizio negativo, questo tema di radioattività non gode di particolare fortuna e in modo particolare io mi riferisco e quindi porto la vostra attenzione questo documento. Questo documento è la richiesta di Enrico Fermi, linceo e a quell'epoca anche accademico delle Scienze di Torino. Siamo nel gennaio del 1937, l'anno quindicesimo dell'era fascista e Enrico Fermi propone al Consiglio Nazionale delle Ricerche la costituzione di un istituto nazionale di radioattività. Tutti saprete ovviamente che il gruppo di Fermi era il gruppo guida a livello mondiale in questo tema all'epoca e nel preambolo ovviamente riporta le attività svolte dal gruppo e in questo stesso documento riporta anche i possibili sviluppi e ricadute di questa attività anche nel campo della medicina. A corredo di questa richiesta presenta anche un preventivo di spesa per l'istituto di radioattività, una spesa ordinaria consistente in ricercatori tecnici e ovviamente anche un uscere, una spesa ovviamente di funzionamento dell'istituto e una spesa di strumentazione prevista in due anni dell'importo di 300 mila lire e il resto invece delle altre spese il totale era 230 mila lire. La risposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi questa è una proposta del gennaio del 1937, arriva soltanto un anno e mezzo dopo, nel 1938 siamo nel giugno, anno sedicesimo dell'era fascista e viene comunicato a Fermi che questa richiesta per costituire un istituto nazionale di radioattività viene approvata per la cifra di 150 mila lire. 150 mila lire è la metà della strumentazione prevista da Fermi per costituire questo istituto. Facciamo attenzione anche su questo anno, questo è un anno particolare perché è lo stesso anno nel quale poi viene insignito del premio Nobel di Enrico Fermi proprio per quelle ricerche che erano descritte nel preambolo del documento che vi ho fatto vedere ed è anche l'anno nel quale, questa è ovviamente un'imperitura ignominia nella storia italiana, ne vengono promulgate le leggi razziali. Queste considerazioni portarono, come saprete, Fermi a trasferirsi negli Stati Uniti e l'Italia a perdere il gruppo guida su questo tema. Quindi, come dicevo, probabilmente sin dall'inizio questo termine non ha goduto di particolare fortuna nel nostro paese. Ora ho fatto vedere questo documento anche per contestualizzarlo alla realtà di oggi. Ognuno potrà trarre le proprie considerazioni sulla lungimiranza di chi di volti in volti, indipendentemente dal quadro politico, deve prendere delle decisioni nel campo scientifico. In questo caso la richiesta era fatta da Fermi, non da un ricercatore qualunque. E la dimostrazione era che mesi dopo, quindi nell'ottobre fu insegnato del premio Nobel per la fisica. E questa decisione non è stata motivata da una costrizione dell'opinione pubblica come potrebbe essere oggi. Perché all'epoca forse c'era l'eccesso opposto. Perché si potreva trovare in commercio ad esempio del dentifricio radioattivo, dentifricio a radio, si potevano trovare delle sigarette a radio, dei sali da bagno a radio e così via. E addirittura si poteva trovare una crema di bellezza a radio. Ovviamente questo oggi fa sorridere perché le conoscenze attuali ci impongono, o perlomeno sappiamo, gli effetti patogeni che possono avere l'utilizzo ovviamente di questo tipo di prodotti. Motivo per il quale oggi, se ci fosse una qualunque traccia di un elemento radioattivo, di un isotopo radioattivo, noi vedremmo questo simbolo che già incute immediatamente il timore. Poi la geometria dello stesso simbolo indica pericolo, pericolo di radiazioni ionizzanti. Allora, perché esiste la radioattività? Dov'è questa radioattività? Allora, per cercare di introdurre questo aspetto nella mia presentazione, faccio riferimento a una tabella che sicuramente ciascuno di noi nella nostra esperienza scolastica, almeno una volta visto, la tabella degli elementi. Questa è più artistica, ma non cambia ovviamente niente. Quindi se osservo questa tabella degli elementi e osservo quel simbolo, quello che già incute timore, tutto sommato, da questa prima visione, ne trago, spero, un po' di tranquillità, perché sì, vedo gli attini, i transuranici, il radio, il tetnezio, che ho usato in medicina nucleare, il radon, che è un gas nobile, però poi, ad esempio, noi siamo fatti di atomi di carbonio, vedo tutto tranquillo, quindi il simbolo non lo percepisco, non percepisco nessun tipo di timore, ancora più se vedo l'idrogeno, un atomo di idrogeno. Quindi, questa prima visione dovrebbe, se ragioniamo in modo visivo, pormi in un regime di moderata tranquillità, in realtà le cose non stanno in questo modo, perché dietro questa tabella, c'è la tabella che c'è alle mie spalle, la tabella dei radionoclidi. Cosa intendo? Prendo l'atomo di idrogeno, ad esempio, e poi prendo l'atomo di carbonio, visto che siamo fatti di atomi di carbonio, la materia organica. Nella realtà, l'idrogeno è presente in natura, sotto forma di un atomo, comprendente un protone e un elettrone, quindi questo è un atomo elettricamente neutro, quello che noi chiamiamo idrogeno, e poi due isotopi. Cosa differiscono gli isotopi? Nel numero di nucleoni, quindi non per i puristi, visto che è una conferenza, ovviamente, che interessa un pubblico, non soltanto di specialisti. Immaginiamo che la differenza, ovviamente, tra questo atomo e questo isotopo, lo chiamiamo isotopo perché differisce nel numero di masse, quindi nel numero di nucleoni. Questo è, diciamo, più ciccione di questo, e questo ancora più ciccione di questo e di quest'altro. L'atomo è sempre elettricamente neutro, quindi dal punto di vista chimico valgono sempre le stesse considerazioni. È cambiato questa struttura nucleare. Questo che chiamiamo trizio, in realtà è un isotopo radiattivo, è un isotopo instabile dell'idrogeno. Vedremo cosa significa questo numero, T mezzi, rappresenta un'emivita. E quest'isotopo è sia naturale, cioè prodotto dalla radiazione cosmica, ma vedremo che è stata alterata la sua concentrazione di attività dai test termonucleari, quindi dall'attività antropica, ecco perché ha questa duplice caratteristica di sorgente, naturale e antropica. Se prendo l'atomo di carbonio, in quella tabella, tutto tranquillo, anche l'atomo di carbonio presenta naturalmente un isotopo radiattivo che è il carbonio 14, probabilmente noto ai più per l'adattazione del telosindonico, ma questo isotopo viene utilizzato negli studi di palioclimatologia, quindi per studiare le variazioni di livelli marini, nella paliosesimologia, per ricostruire gli eventi tettonici occorsi nel passato, quando non eravamo previsti di sismometri o di informazioni dalle quali poter ricavare la sorgente sismica, l'energia rilasciata dal terremoto e così via. Anche in questo caso, vediamo che abbiamo due isotopi stabili, 12 e 13 del carbonio, questo è instabile, quindi è radiattivo, è cosmogenico, anche questo, farò vedere dopo come la formazione sia del trizio di radiocarbonio, e anche questo si è alterato in termini di concentrazione di attività a seguito dei test termonucleari. A questo punto, devo dire, il dove la tabella degli elementi, aver introdotto i isotopi, aver spiegato che quindi esiste della radioattività, diciamo, per così dire, nascosta dietro quella tabella, adesso perché? Allora, le nostre conoscenze sulla materia ordinaria sono che questa è costituita da protoni, che abbiamo visti prima nella struttura dell'atomo di idrogeno, e poi elettroni, e possiamo avere anche dei neutroni. La descrizione di queste particelle è, grazie a Fermi Dirac, si chiama Statistica di Fermi Dirac, queste particelle vengono chiamate Fermioni, mentre quelli che noi chiamiamo mediatori di forza, i bosoni, sono stati descritti dalla Statistica di Bose-Einstein. Ma qui faccio vedere un'altra fotografia e faccio riferimento a Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli introduce un principio di esclusione. Il principio di esclusione ci dice che due fermioni identici, quindi sto parlando soltanto o di protoni, o di elettroni, o di neutroni, due fermioni identici non possono occupare simultaneamente lo stesso stato quantico. Uno dice che vuol dire questa cosa, allora cerco di tradurla in modo molto semplice. Allora, mi vengono in mente i capponi di Renzo Tramaglino quando si reca da Azzeca Garbugli. Ricorderete, questi capponi, benché uniti dalla stessa inesorabile sorte, per tutto il tragitto non fanno altro che azzuffarsi. Ed erano a testa in giù. Allora, questo principio di esclusione ci dice che, se adesso immagino di costruire è un'ipotetica pila di cassette all'interno delle quali voglio mettere dei capponi, quindi dei fermioni identici, le possibilità di inserire due capponi sono li metto tutte e due a testa in su, si guardano negli occhi e si azzuffano, li metto tutte e due a testa in giù, c'era già descritto manzoni. Se ne metto una testa in su e una testa in giù, questo sarebbe lo spin up e down dei fermioni, tutt'al più li porto in confusione perché se osservano reciprocamente le zampe forse posso mitigare questa loro propensione ad azzuffarsi. Adesso Paoli spiega bene cosa vuol dire non possono stare nello stesso stato quantico nella stessa cassetta due fermioni identici simultaneamente perché infatti se adesso penso di introdurre un terzo cappone in quella cassetta o lo metto a testa in giù o lo metto a testa in su sicuramente incrocerà lo sguardo di uno dei due che ho precedentemente inserito quindi riniziano ad azzuffarsi quindi sono costretto a metterlo nella cassetta superiore per evitare confusione e quindi questo sta a significare che la nostra materia ordinaria si organizza in un determinato modo però cosa può succedere se io a questo punto continuo a costruire questa pila un minimo di agitazione ovviamente i capponi anche se sono a testa in giù rispetto all'altro la producono quindi il rischio è che le oscillazioni sfascino questa pila e quindi delle cassette cascano giù è chiaro che se la decima cassetta che casca in giù avrà una velocità di caduta perché ha un'energia potenziale dovuta la quota maggiore questo perché siamo in un campo gravitazionale se osservo questo da punti di vista nucleare ho il cosiddetto difetto di massa tradotto lo potrei avere anche in questa rappresentazione metaforica dei capponi vale a dire sicuramente quando il cappone della decima cassetta casca giù perché questa cassetta agitandosi e questa pila agitandosi si sfascia perderà qualche piuma quindi sicuramente avrò una variazione di massa tra prima e dopo la caduta la differenza qual è? che quel difetto di massa che ho in una disintegrazione nucleare lo devo moltiplicare per una velocità della luce che è 300.000 km al secondo ecco le energie che entrano in gioco sono significativamente maggiori rispetto a quella che ho descritto nel campo gravitazionale in quel caso la velocità sarebbe soltanto una radice quadrata di 2gh se ovviamente trascuro l'attrito dell'aria se non vi piacciono i capponi posso citare Giuseppe Giusti da Retravicello le teste di legno fa sempre del chiasso lo vediamo nei talk show quindi anche qui questo impone che non ne posso mettere più di 2 ma sempre una testa in giù e una testa in su così almeno evito che guardandosi negli occhi inizia ovviamente si amplifichi questo chiasso quindi l'area di attività di fatto è tra virgolette una correzione a una condizione di instabilità e in che modo correggo se ho una configurazione instabile attraverso quello che chiamo decadimento adesso qui ne ho riportati tre in ordine alfabetico considerandolo alfabeto greco alfabeto e gamma questo ad esempio è il decadimento dell'uranio 238 questa è una catena radioattiva vuol dire che anche questo risulta instabile poi decadrà e per intenderci questo processo di cassette di capponi che cascono terminerà con il piombo 206 questo numero indica quel numero di massa quindi la somma dei protoni e dei neutroni quindi dei nucleoni e in questo caso osservate nel decadimento alfa la disintegazione di questo atomo di uranio produce il torio 234 è una particella alfa che è un nucleo di elio sono due protoni e due neutroni ora qui aritmativamente uno direbbe ma 234 più 4 fa 238 non c'è difetto di massa in realtà c'è adesso graficamente per semplicità non è riportato ovviamente tutta la trattazione ma fidatevi c'è ed è quella poi l'energia energia che chiaramente osserviamo quando è stata sperimentata in questo nostro pianeta ve la farò vedere con gli ordini nucleari nel caso del decadimento beta abbiamo un neutrone che si trasforma quindi all'interno di questo nucleo in una coppia protone-elettrone l'elettrone viene espulso e come osserviamo in questo caso il numero di massa non cambia questo è il torio 234 come dicevo che è instabile e decade nel prototinio l'altro decadimento gamma è quando a seguito di un decadimento alfa o beta il nucleo si trova in uno stato eccitato e torna a uno stato fondamentale allora in questo caso la mia pila come dire oscilla non casca nessuna cassetta ma dissipo diciamo quell'energia di oscillazione fino a che la pila non rimane ferma e questa è un'emissione di radiazione gamma un altro aspetto peculiare della radioattività è che segue una legge caratteristica e qui ritorno a quel team mezzi vale a dire per ogni isotopo radioattivo noi abbiamo una specie di carta di identità ecco perché è utile anche come cronometro per ricostruire eventi nel passato accorsi nel nostro pianeta vale a dire per ogni radionuclide esiste una legge di decadimento esponenziale adesso noi siamo preoccupati per il covid che quando ovviamente segue una legge di non di decadimento esponenziale ma di crescita esponenziale in questo caso come vedete la caratteristica è questa ogni radionuclide intercorso un intervallo di tempo caratteristico specifico per ognuno l'attività iniziale si dimezza ecco perché si chiama emivito tempo di dimezzamento intercorso lo stesso intervallo di tempo caratteristico di radionuclide nuovamente si dimezza si dimezza di questa quantità quindi o a 0 quarti e così via quindi dopo 5 tempi di dimezzamento la concentrazione di attività si è ridotta quasi a 0 quindi diciamo è trascurabile questo è indicativo perché se un radionuclide ha un tempo di emivita di pochi secondi moltipicherò quei pochi secondi per 5 se è un tempo di emivita di migliaia di anni per arrivare qui vuol dire che devo moltiplicare per 5 quel tempo di dimezzamento di migliaia di anni cos'è che preoccupa e poi induce e amplifica il pregiudizio l'effetto che la radiazione ha su di me sul corpo ora noi siamo immersi in campi di radiazioni in campi di radiazioni non ionizzanti dalle microonde le onde radio quindi abbiamo tanti di quei dispositivi oggi ai quali siamo soggetti in termini di radiazione non ionizzanti e le radiazioni ionizzanti naturali come la radiazione cosmica l'alfa il beta il gamma che vi ho introdotto raggi x e così via ma qual è il problema reale quindi se io adesso prendo quegli alfa beta e gamma faccio questo ragionamento io sono qui c'è la radioattività bene ma questa radioattività come interagisce adesso se io non immagino ovviamente questa radioattività con gli aerosol quindi trasportata e il rischio di poterla inalarla o ingerirla quindi di avere una contaminazione interna parlo solo di esposizione esterna al mio corpo bene la radiazione alfa è sufficiente un foglio di carta qualunque foglio di carta avete sul tavolo è sufficiente a fermare questa radiazione questo nucleo due protoni e due neutroni per fermare un elettrone un foglio di alluminio per fermare raggi X e gamma mi servono dei spessori maggiori di piombo ma se sono qui l'effetto sul mio corpo di questa radiazione non c'è sono stato schermato di volta in volta con degli spessori e dei materiali differenti allora a questo punto vorrei chiarire alcuni termini i termini sono questi quando noi parliamo quindi di radioattività e le indichiamo in Becquerel parliamo di quelle disintegrazioni al secondo cioè quante cassette di quella famosa pila dei capponi di Renzo cascano giù in un determinato intervallo di tempo quindi ipoteticamente se io considero questi due adolescenti che giocano a palla sto lanciando questa palla al ragazzo o alla ragazza se vi piace di più la rappresentazione calcistica senza fare offesa visto che vi trovo a Torino adesso immaginate di avere in porta o Buffon o Sirigu e di avere dieci palloni dieci calciatori che simultaneamente tirano il pallone in porta è chiaro che Buffon o Sirigu non potranno parare simultaneamente tutti i dieci palloni alcuni entreranno in porta quindi non interagiranno con nessuno dei due portieri altri verranno parati quelli che verranno parati allora mi preoccupo posso chiedere a Buffon dipende anche dall'energia e da chi ha tirato il pallone chi ha calciato il pallone mi interessa quindi misurare la quantità di radiazione assorbita da quell'organismo ed è chiaro che se io do 100 pallonate a Buffon o a Sirigu anche se sono allenati probabilmente a furia di parare qualche ematoma magari si può sviluppare allora quello è un effetto di quell'energia in quel caso dissipata dal pallone sui due portieri allora così come il grey misura la quantità di radiazione assorbita dall'organismo il Sievert mi dice avvalle l'effetto che è indotto da questa radiazione ionizzante al quale è stata esposta il mio organismo in particolar modo la posso anche differenziare per organo perché ovviamente gli organi interni hanno caratteristiche differenti e quindi hanno anche risposte differenti alle energie che vengono alle quali vengono esposte detto questo quindi vi do dei numeri che non vi devono ovviamente indurre e preoccuparvi sto parlando di radioattività naturale non vorrei adesso visto che si è ridotta i nostri rapporti sociali in causa Covid se vi dico che in ogni corpo umano in un individuo che pesa mediamente 70 kg a una radioattività di 8000 becquerel quindi disintegrazione al secondo delle quali circa 5000 becquerel sono dovute al potassio 40 nelle ossa quindi adesso non ci abbracciamo più perché terminato il Covid ciascuno di noi vede nell'altro un rischio radioattivo o come se vi dico che nel latte cede 80 becquerel per litro nessuno adesso utilizzerà più il latte assolutamente no o non andrà a mare quest'estate perché per ogni litro di acqua di mare ci sono circa 10 becquerel perché perché la nostra vita si è evoluta in un fondo di radiazione esiste un fondo di radiazione naturale come vi dicevo non possiamo fermare la radiazione cosmica siamo costantemente continuamente costantemente bombardati dall'esterno quindi radiazione extraterrestre arrivano protoni di alta energia in questo momento in cui sto parlando nel mio studio e questo lo sa anche il nostro studente perché questa vignetta descrive abbastanza bene come si è evoluta qualunque specie non soltanto l'uomo nel nostro pianeta l'uomo il cavernicolo sostanzialmente chiede al ragazzo di oggi qual è la radioattività quando hanno domini oggi e giustamente devo dire che è preparato lo studente risponde la stessa che c'era prima di Cristo e qua faccio notare come dire è noto evidentemente a livello mondiale il nostro humor perché in questo caso l'uomo medievale chiede al romano che cosa sono i raggi alfabeti e gammi e il romano giustamente dice chiede a lui che è greco allora con questo spero di aver dato un'introduzione sul dove e il perché della radioattività mi preme adesso dare anche alcune informazioni di dettaglio cioè quale sono le sorgenti alle quali siamo esposti la fonte qui è l'agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti se andiamo a vedere quale sono le sorgenti radiazioni ionizzate alle quali noi siamo esposti abbiamo la gran parte naturale della quale una grossa feta è radon che è un gas nobile radioattivo ce l'abbiamo nelle abitazioni dipende ovviamente dai materiali con i quali è costruita la nostra abitazione ma è presente nelle rocce tuface è presente nel cemento che mediamente diciamo quello di uso commerciale più comune è presente nella pozzolana che è una roccia vulcanica quindi ci sono tracce di uranio in radio in quei materiali che a quel punto decadendo producono questo gas radioattivo che prima di arrivare al piombo 206 produce il polonio tanto famoso polonio che se è inalato ingerito non viene metabolizzato all'organismo abbiamo poi altre sorgenti di uso medicale e poi ovviamente abbiamo esposizioni industriali ma questa rappresentazione grafica credo che sia più che sufficiente nell'individuare se a volte la percezione è conforme alla realtà o meno se il pregiudizio quello di cui discutevamo prima è conforme alla realtà o meno giustamente non dovete credere allora vi porto dei numeri se io prendo una casa l'esposizione che ho in una casa annualmente dipende sempre ovviamente dal materiale dipende dal sottosuolo e dalle caratteristiche si dice litologiche è di circa 2,28 2,3 mSv ma se io vivo in montagna per esempio sono esposto a una radiazione ionizzante maggiore di una persona che vive a livello del mare perché rispetto a questo io ho uno spessore ridotto di atmosfera questo ha uno spessore maggiore di atmosfera sovrastante che quindi filtra e quindi attenua quella radiazione ionizzante quella radiazione cosmica di cui vi parlavo se vivo vicino a una centrale nucleare ovviamente se funziona praticamente sono ben al di sotto di quella che è l'esposizione normale quotidiana che io posso avere in un normale manufatto in qualunque parte d'Italia e se vivo in montagna sono esposto tre volte in termini di dose valente quelli che abbiamo visto prima i sievert questi sono millisievert rispetto al mare poi se faccio esami terapici qui sono indicati altrettanti numeri come diceva anche l'introduzione del presidente Mori questa radioattività è presente nel nostro pianeta in ogni ecosistema motivo per il quale noi la utilizziamo negli studi è stato citato modello lagrangiano quindi facciamo onore a un altro piemontese a lagrangia l'importanza di avere un radionuclide è equivalente quando io studio voglio tracciare un fluido voglio tracciare un gas di avere uno sperimentatore in quello che si chiama sistema di laboratorio con una legge di decadimento e che è specifica di un ciascuno di questi isotopi che voi vedete alcuni di questi isotopi che vedete sottolineati come dicevo e anticipato come nel caso del trizio e del radiocarbonio hanno avuto anche variazioni dovute all'attività antropica quindi il trizio sia naturale sia di origine antropica come il radiocarbonio e in ciascuni dei vari comparti l'atmosfera l'idrosfera lo studio dei ghiacci lo studio appunto della geodinamica abbiamo dei specifici radionuclidi che sono utili nel ricostruire appunto fenomeni nel passato come si fa? allora lo facciamo ragionando in questo modo se io misuro la redattività in questo momento nel mio studio la prima cosa la prima domanda che mi viene da fare da pormi è da dove è arrivata questo segnale quindi il nostro tempo normale ha questo verso la nostra esistenza io inverto il tempo per cercare di ricostruire l'origine la sorgente quindi localizzare la sorgente e anche l'intensità di questa sorgente e osservate che man mano che io torno indietro nel tempo aumenta questa aria aumenta la mia incertezza spaziale perché perché questo è un sistema non lineare quindi matematicamente ritornando a quei famosi modelli lagrangiani ho varie posizioni che possono essere compatibili con il segnale misurato quindi con una soluzione mi spiego se io sono in un sistema lineare ben descritto qui da Gleick e affronto il problema del labirinto se ho una buona memoria entro in un labirinto prima o poi se memorizzo bene tutti gli aspetti di quel labirinto sono in grado di uscirne ben diversa la situazione se entro in un labirinto e ad ogni passo questo labirinto si riorienta ma io non so come si riorienta quindi devo fare uno sforzo maggiore perché si può riorientare al primo passo tutta a destra ruotando tutte le pareti a destra poi al secondo passo tutta a sinistra al terzo passo metà a destra metà a sinistra e così via quindi devo costruirmi e comprendere delle leggi di scala non è banale se questo vi è difficile quindi questo significa nel caso che vi dicevo prima che se io misuro la radioattività in questo momento a Roma io posso avere come possibili soluzioni compatibili non solo un punto perché non è appunto una logica lineare se vi è difficile allora mi affido un nuovo cinema paradiso la scena dei baci è chiaro che se io vedo un film e questa scena in avanti e indietro vedo sempre la stessa sequenza o in avanti o indietro dei baci adesso però immaginiamo che Tornatore ha fatto uno scherzetto prendiamo questo ultimo fotogramma come risultato e dopodiché immaginiamo che Tornatore abbia fatto un montaggio di n quadro sequenze cambiando ovviamente le sequenze quindi se io osservo il film quello che succede mi sono rimasto fermo qui quando lo rimando indietro non mi capacito più perché non mi ricordo di aver visto quella sequenza quando era nel verso precedente quindi questo sta a significare che quello che vi dicevo prima che quando dobbiamo ricostruire poi l'informazione in un sistema non lineare siamo ovviamente obbligati a prendere in considerazione tutte le possibili soluzioni quindi fare una previsione nel passato non è come ripercorrere il nostro passato quindi eventi che noi conosciamo perfettamente è immaginare di ricostruire un passato come nel film Ritorno al Futuro quindi cercando anche di modificare quel passato per poi riavere un presente diverso se faccio questo tipo di ragionamento tipo quando c'è stato l'incidente di Fukushima dobbiamo fare questi tipi di previsioni anche in avanti quindi anche in questo caso valgono le stesse condizioni tipiche di una previsione meteorologica quindi io posso avere una sorgente tipo appunto Fukushima il punto di emissione in quel caso lo conosco non devo ricostruire il punto di emissione lo so però devo studiare dove può evolvere quella nuvola nucleare diciamo di radioattiva e dove va a finire anche qui in funzione delle condizioni meteorologiche posso avere diverse soluzioni quindi quello che noi facciamo è un procedimento per ricostruire una matrice di diluizione per relazionare ciò che misuro a una sorgente che devo ricostruire tradotto posso fare l'esperimento di prendere un fumatore e dire fuma io mi metto di spalle quindi io non so in una stanza perché non lo posso osservare se in quel momento sta fumando dove è posizionato in quale stanza se sta emettendo l'unico mio sensore è l'olfatto è chiaro che l'olfatto in un volume di diluizione come una stanza può anche portarmi a non avere nessun tipo di cognizione della posizione del fumatore e se sta fumando meno quindi quello che noi dobbiamo cercare di ricostruire è appunto di volta in volta questa matrice di diluizione ma sull'intera atmosfera adesso applico per questione di tempo semplicemente dei ragionamenti su un elemento importante del nostro pianeta che è l'acqua se ne è occupato come tante cose Leonardo da Vinci questo è il codice Leicester poi diventato codice Hammer e adesso codice Gates di Bill Gates e già Leonardo aveva individuato i comparti di questo ciclo idrologico ne aveva leggendo qui invertito come dire il verso perché mi immaginava un verso che dai mari risaliva l'acqua nelle montagne e poi riscendeva quello che noi ovviamente sappiamo del ciclo idrologico che è esattamente quello che aveva individuato Leonardo ma con il verso opposto quindi vale a dire abbiamo un processo evaporativo degli oceani che rappresentano due terzi della superficie terrestre l'evaporazione dei fiumi poi ovviamente questo vaporacqua condensa precipita infiltra e questa è l'acqua che di fatto noi beviamo sono gli acquiferi e che serve per l'uso agricolo in ciascuna di queste parte di processo del ciclo idrologico abbiamo un'altra volta degli isotopi radioattivi naturali o artificiali che ci permettono di ricostruire temporalmente questo ciclo infatti l'agenzia atomica internazionale si occupa da tempo sia nello studio della radioattività negli oceani per studiare quindi le variazioni le correnti oceaniche la dinamica oceanica e anche ovviamente gli impatti antropici quindi i rilasci tipo a seguito all'incidente di Fukushima di acqua radioattiva quindi gli impatti ambientali e se questa è la realtà che noi vediamo direttamente con i nostri occhi quindi due terzi della superficie e acqua bene la IEA si occupa anche dell'acqua che non vediamo vale a dire l'acqua che serve come dicevo però sopportabile che sarà molto probabilmente causa dei prossimi conflitti o delle migrazioni perché è chiaro che la mancanza di questa risorsa in un organismo come quello umano che è prevalentemente fatto di acqua quindi noi senza acqua non possiamo sopravvivere è l'agricoltura quindi non ci si possono sostenere né noi né gli animali se siamo cannibili ma anche le piante e così via è cruciale e perché l'agenzia atomica è interessata a un water resource program perché come dicevo radiocarboni e trizio sono degli utili indicatori per fornire una carta di identità all'acqua cosa mi distingue da un altro individuo in una carta di identità la mia data di nascita la mia residenza quindi l'uomo in cui vivo ecco se non utilizzo questo dato di radioattività nelle acque il rischio è che noi ed è già successo e sta succedendo e poi operiamo queste risorse perché se io prendo un bicchiere d'acqua osservo il bicchiere d'acqua dico è pieno se sono un fisico utilizzo un piezometro con la legge di Stevino ricavo qual è la quota dell'acqua a questo punto dico benissimo questo bicchiere è pieno posso tirar fuori da quest'acquifero l'acqua ma il problema qual è che se questo bicchiere si riempie una goccia all'anno e ne tiro 10 gocce al giorno chiaramente il livello di questo bicchiere sparirà e alla fine ho depoperato questa risorsa quindi a me serve un indicatore che indica l'età di quell'acqua da quanto tempo è residente quell'acqua così come io ho un ottantenne non lo iscriverei alle olimpiadi per farlo vincere per l'Italia la medaglia d'oro nei 100 metri perché non posso chiedere ovviamente di percorrere in meno di 10 secondi all'ottantenne 100 metri perché? perché so la sua carta di identità allo stesso modo non posso chiedere a un'acqua che da tanto tempo in quell'acquifero di utilizzarla rispetto a un'acqua più giovane quindi il radiocarbono e il trizzo ci danno il tempo che intercorre da momenti in cui una matrice fluida ha lasciato l'interfaccia con l'atmosfera entrambi si formano dalla radiazione cosmica quindi questa pallina che vedete per i fisici sono dei neutroni termalizzati dalla radiazione cosmica secondaria questa è una vera e propria reazione nucleare che avviene in atmosfera con l'isotopo dell'azoto che produce il radiocarbonio che a sua volta decade cos'è successo qui? vedete anche questa nuvoletta quindi le bombe hanno alterato questa concentrazione sia di radiocarbonio che di trizio perché? perché il rilascio di neutroni dei test nucleari erano neutroni che avevano la stessa energia di questi naturali i quali a quel punto nulla vietava che interagivano con l'azoto naturale presente l'isotopo 14 producendo altro radiocarbonio tradotto io faccio l'esempio sempre su di me non si spaventa nessuno rispetto al mio coetaneo della rivoluzione francese il mio parietà nel mio organismo ho più radiocarbonio perché? perché il radiocarbonio ha un tempo di dimezzamento di 5730 anni quindi l'effetto di quello che vi farò vedere fra un po' è ancora presente noi lo assorbiamo attraverso l'anidride carbonica quindi attraverso il nostro metabolismo la respirazione quindi io lo fisso prevalentemente nelle ossa e ne ho fissato più di un francese di uno che ha fatto la rivoluzione se non che se fra due mila anni qualcuno datterà le mie ossa e dimenticherà questo effetto perturbativo dei test nucleari mi farà un lifting post ringiovanirà l'età della mia morte almeno 100 anni quindi io sicuramente morirò in questo secolo mi sposterà nel secolo successivo quindi ci ho guadagnato senza da questo punto di vista senza far niente perché il radiocarbonio misura l'età di morte di quel campione organico perché finché sono in vita scambio respirando con l'anidride carbonica radioattiva è quella che nel mio corpo decade quindi sto in una fase di equilibrio quando morirò ovviamente cessa il mio metabolismo non respiro non posso più assorbire nessuna anidride carbonica radioattiva dall'esterno e quella che ho all'interno del mio corpo inizia a decadere secondo quella legge quindi è chiaro che se non ho un fattore di normalizzazione si dice non verrà utilizzato il rischio è di sbagliare la mia datazione cos'è che ha determinato queste variazioni di concentrazione un'attività antropica che adesso vi farò vedere che si è sviluppata dalla seconda guerra mondiale dal primo test che è stato realizzato di Alomogordo fino ovviamente a Hiroshima e Nagasaki e tutto il periodo della guerra fredda come ha introdotto il presidente Mori e diciamo che si sono sbizzarriti con test atmosferici nel sottosuolo e sott'acqua ma riprendo il discorso dell'acqua per dare un elemento comparativo se vado a vedere le sorgenti di radioattività naturale e quindi antropica qui la sorgente dell'informazione è un istituto prestigiosissimo si occupa di oceanografia quindi non è un istituto nucleare per intenderci si occupa di cambiamenti climatici e di oceanografia ecco prendiamo in riferimento i tre incidenti industriali principali Trimai Island Fukushima e Chernobyl osservate che questi numeri PETA è un suffisso vuol dire 10 alla 15 BECEREL perché qui sto parlando di PETA BECEREL quindi 10 alla 15 disintegrazione al secondo Chernobyl nell'impatto che ha con la parte fluida del nostro pianeta è 85 Fukushima ha un doppio impatto perché sia quella che a seguito dello scambio con l'atmosfera entra nell'oceano sia ce n'è stata una diretta come vi dicevo perché per affreddare il reattore quindi per restare il calore residuo è stata flussata acqua marina all'interno dell'edificio del reattore e poi rimandata ovviamente in mare queste sono il numero in termini dei test nucleari a livello globale degli anni 50 e 60 come impatto quindi abbiamo 400 a confronto di 85 e di quest'ordine di grandezza poi abbiamo una radioattività naturale abbiamo il potassio 40 e questa è madre natura così come l'oranio 238 che sono numeri maggiori quindi uno dice vabbè ma questi sono più grandi questo non è un problema questo è un problema tutto è un problema mi preme semplicemente dare informazione su poi quando si fanno delle comparazioni si spera di farle in modo corretto i test nucleari è una storia che come vi dicevo inizia con i test dell'omogordo vedete qui tutta una fase di test atmosferici poi si è smesso vedremo perché però non è che si è smesso non se ne sono fatti più sono stati fatti prevalentemente sotto terra vedete che ancora qui c'è un'attività atmosferica perché Cina e Francia avevano iniziato dopo il loro programma nucleare loro indipendentemente dalla moratoria hanno continuato a detonare fino agli inizi degli anni Ottanta poi andando soprattutto la Francia nel Pacifico nella Polinesia francese questa è tutta l'attività nell'ex Unione Sovietica questa prevalentemente nel nuclear test site nel Nevada ma vedete anche bandierine queste sono state fatte in scena tra Inghilterra e Stati Uniti l'Inghilterra ha iniziato a farlo in Australia ovviamente non ne ha fatti sul proprio territorio la Francia ad esempio ne ha fatti in Algeria quindi ancora noi oggi quando c'è il cosiddetto scirocco quindi una bassa pressione aviezioni d'aria calda da queste regioni quella che in modo fastidioso arriva anche a Torino magari sotto forma di pioggia vedete quella sabbia che poi si deposita sui veicoli ecco bene ci sono tracce di radioattività di quei test fatti dai francesi in Algeria adesso vedremo perché vi faccio notare questo dato siamo 1961 1962 anno particolare perché poi è anche l'anno della crisi dei missili di Cuba bene in quell'anno furono fatti 160 test nucleari la media di un giorno sì e un giorno no ma che è un test prima lo faccio vedere in un'animazione che è una come dire un'informazione fredda poi lo vediamo attraverso un video così possiamo anche comparare uno di questi in termini di Chernobyl e di Fukushima vi do un'altra informazione prima dei video questa è una tabella non esaustiva perché i test realizzati sono circa 2300 2300 quindi vedete il test di Alamogordo poi Hiroshima e Nagasaki e qui l'ordine di grandezza è sempre riportata in tonnellate di Trinito Toluene parliamo di tonnellate di Tritolo anche qui purtroppo devo ricordare un'altra ignominia in peritura della nostra storia per dare contezza di cosa vuol dire l'attentato che ha ucciso Falcone e la sua scorta che ha fatto saltare centinaia di metri di autostrada erano all'incirca 300 quasi 400 chilogrammi di TNT chilogrammi quindi qua noi parliamo di 13.000 tonnellate l'esplosione più potente realizzata è una termonucleare fatta dai sovietici era uno sforzo di fantasia la Tsar Bomb progettata da Andrei Sakharov ed era di circa 50 megaton 50 milioni di tonnellate di tritore equivalente è un test atmosferico quindi è stata sganciata poi è arrivata a una certa quota di sensori di pressione venuta la detonazione l'onda d'urto si è registrata tra i 700 chilometri e i 1000 chilometri per intenderci sgancio una bomba su Torino e butto giù Palermo cioè ho effetti e danni negli impissi o negli edifici fino a Palermo forse a quel punto si sono resi conto parlo solo dell'onda meccanica poi ovviamente c'è un'onda termica e il folletto radioattivo questa ha contaminato tantissimo perché il fungo è arrivato a 60 più di 60 chilometri di quota quindi era in stratosfera lì esistono delle correnti a getto che hanno disperso sull'intero globo i residui e gli effetti diciamo di questo test quindi qui vi faccio quindi notare che parto dall'agosto del 1961 vedrete questo numero che varia di mese in mese fino a dicembre del 62 sono stati già realizzati 304 test nucleari le bandierine indicano i paesi responsabili vedrete anche accendersi l'Algeria quindi da quei 300 e qualcosa siamo passati 551 avete visto anche tanti test in acqua visto che è l'argomento diciamo portante di questa parte della mia presentazione avete visto anche i test algerini prendo un test nucleare ad esempio questo è l'operazione crossroads quindi questo è il secondo di una tripletta di test programmati il primo era ebole in atmosfera questo è backer sott'acqua doveva essere fatto anche Charlie che non fu fatto perché gli effetti di contaminazione di questo che state adesso per osservare sono stati hanno indotto ovviamente nel sospendere questa attività osservate anche che ci sono un certo numero di navi come dire obiettivo perché bisognava studiare sulle navi l'effetto meccanico in che modo venivano distrutte in che modo venivano fuse dall'onda termica e all'interno vi erano anche animali venivano ovviamente ahimè legati perché poi si studiavano gli effetti sugli organi al museo di Kurchatov nella zona dell'attuale Kazakistan vicino Semi-Palatinsk dove sono stato per varie volte e dove sono stati fatti 400 test nucleari dell'ex Unione Sovietica ancora non è un bel vedere ci sono appunto organi di animali conservati durante i test che facevano all'epoca i sovietici qui per esempio c'è la USS Nevada quindi quelli non sono modellini sono navi reali gli alberi di quelle navi sono dai 20 25 metri e adesso vedrete l'esposizione è avvenuta a 30 metri di profondità su un fondale basso quindi vedete anche un rimbalzo elastico diciamo il fondale viene aiettato fuori quindi all'esterno l'acqua è completamente nebulizzata forma una nuvola di Wilson cosiddetta nuvola di Wilson e vedrete un'onda di tsunami che copre completamente rendendoli quasi dei modellini queste navi che sono navi incrociatori insomma navi di guerra ecco dimenticavo la potenza di questo ecco qui si vede anche l'onda d'urto come si propaga la potenza è di 23 kiloton quindi non è grandissima ma questo significa che quel fungo in questo momento sta rilasciando totalmente quindi non è paragonabile ovviamente ed è il motivo per il quale abbiamo quei numeri che vi ho fatto vedere comparando gli incidenti nucleari Fukushima e Chernobyl questo ha determinato per ciascun'area geografica dove abbiamo visto prima le bandierine per intendici e per ciascun'area atmosferica questa è la troposfera quindi i primi di 12 km poi c'è un'inversione termica fortunatamente naturale che previene quindi l'ascesa del vaporacuo a quote superiori e quindi preserva questa importante risorsa nel nostro pianeta a differenza di altri pianeti e poi abbiamo la stratosfera quindi come vi dicevo alcuni test hanno completamente perturbato la stratosfera quindi come vedete da queste barre questa è la regione la quale è stata fatta detonare la zarbomb quella che vi dicevo prima e queste sono le potenze in milioni sempre di tonnellate di tritolo equivalente qual è un altro effetto comparativo da tenere in considerazione che ciascuno di questi isotropi radiattivi come dicevamo ha un tempo caratteristico all'interno del quale di mezza quindi riduce della metà la spropria concentrazione di attività vedete che alcuni di questi questo sono anni quindi 50 anni 400 anni vedete questo praticamente non cambia il plutonio 239 240 vedremo perché ha un tempo di emivita di 24.400 anni quindi vuol dire che devo se ho 10 palline di plutonio per averne 5 devo attendere 24.400 anni per averne 2,5 dovrò attendere altri 24.400 anni ma adesso se comparo la parte atmosferica quindi non tutti i 2300 test i 500 test condotti dalle potenze Stati Uniti ex Unione Sovietica Gran Bretagna Cina e Francia e prendo in riferimento il cesio e lo iodio 131 che è causa diciamo dell'enoplesia carica della tiroide allora la stima dei test nucleari è 950 peta becquerel questo è cernobile e questo è fukushima se prendo il cesio questi sono i test nucleari questo è cernobile e questo è fukushima exa becquerel sono 10 alla 18 becquerel disintegrazione al secondo la fonte qui è la commissione scientifica per gli effetti delle radiazioni atomiche delle Nazioni Unite United National Scientific Committee Effect of Atomic Radiation se faccio vedere questo grafico questo numero è poco significativo perché è chiaro che io sto facendo una media globale della dose effettiva sulla popolazione mondiale ma questo grafico serve un'altra volta indicarvi che qua c'è Cernobile quindi se prendo quel segnale qui non c'è ma non c'è perché è nascosto questo ovviamente riguarda la parte di esposizione esterna quello che ho fatto vedere quando abbiamo visto il foglio di carta il foglio di alluminio e lo spessore diciamo di piombo o per ingestione inalazione quindi se io mangio ovviamente il cimbo contaminato o nel respirare inalo aria dove c'è del particolato radiattivo e questa è la dose totale quindi significa che comunque è chiaro che c'è stata un'esposizione della popolazione a livello mondiale che numericamente è poco significativa poi ovviamente nei luoghi specifici questo è un valore alto questa è una fotografia ma c'è quell'effetto memoria che vi dicevo prima questo vorrei saltarla velocemente per non deprimermi quindi qui sono elencati sostanzialmente tutti gli effetti patogeni dei vari radionuclidi che hanno emivite di un certo valore tipo la milicio 241 e così via e qui è indicato ovviamente i vari tipi di neoplasie per esposizioni acute ovviamente a queste radiazioni ionizzanti volevo farvi vedere questo come effetto di memoria cioè questo è il nucleotesside in Nevada qui come vedete sembra un M in tal tutti questi fori erano i primi test poi via via ovviamente sono stati in grado di sistemare come dire correggere il tiro a contenerli meglio di fatto questo terreno che è di diversi chilometri quadri è contaminato ancora e l'effetto del vento rimette in risospensione questo particolato radioattivo e questa è la dimostrazione che l'atmosfera ha adottato Schengen dalla nascita noi abbiamo adottato Schengen da poco lo discutiamo quando aprile e quando chiude l'atmosfera non ha le varie quote nessun ufficio di immigrazione nessun componente che indica se quella particella è francese se può entrare non può entrare sul nostro territorio non c'è nessun cacci intercettore nelle equazioni di Navier-Stokes non c'è nella matematica e nella fisica non c'è quindi potrebbe sembrare strano ma non lo è che questo è il sito contaminato e poi in realtà il vento quindi i movimenti che le masse d'aria depongono il cesio questo è il cesio becchere sul metodo quadro quindi sulla superficie e ne ho di più su questa porzione di costa che è magari vicino al nuclear test site vedete i colori se non che ovviamente l'esperienza dei test del del 62 impose una seria riflessione perché ovviamente si stava contaminando l'intero globo e ci furono diverse trattative finché si arrivò a un trattato di proibizione parziale qui vedete Kennedy ha la firma e oggi esiste un trattato quindi un'ulteriore evoluzione che è stato messo alla firma nel 96 l'Italia l'ha firmato nel 96 e ratificato nel 99 che è parte di questo acronimo Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty quindi che mette al bando i test nucleari in ogni ecosistema terrestre ma ancora non è entrato in vigore perché dal punto di vista legale deve essere firmata tutte le potenze nucleari che hanno sia ordini nucleari sia conoscenze o strutture tali da poter sviluppare ordini nucleari quindi gli Stati Uniti lo hanno firmato nell'epoca Coffey McClinton ma non lo hanno ratificato adesso non so se Biden lo ratificherà stesso modo la Cina quindi finché non verrà ratificato non entra come dire in vigore nella sua complessità inclusa le ispezioni in situ tuttavia è contemplato dal punto di vista legale la realizzazione di una rete di monitoraggio mondiale e qui è rappresentata la struttura della rete di monitoraggio con le stazioni nei due emisferi che misura ogni giorno la radioattività sia sotto forma di gas nobili sia di particolato atmosferico quindi fa di fatto un controllo sia nell'ambito della violazione di questo trattato sia sull'operatività delle centrale nucleari ma anche delle industrie farmaceutiche in particolar modo quelle che producono radiofarmici nei trattamenti oncologici tutto avviene in tempo reale c'è un sistema che comunica ovviamente i dati a Vienna è una rete di scienziati accreditati e autorizzati che può fare analisi e quindi dare allerte e fare quei modelli che abbiamo visto prima da questo studio si è potuto di fatti osservare che cinque dico semplicemente cinque che producono immediatamente ce n'è uno in ogni continente ce n'è una in Europa a Fleurs in Belgio radiofarmici per uso oncologico emettono vedete circa 10 da 12 beccare al giorno di questo gas radioattivo che noi utilizziamo per marcare eventuali violazioni nel trattato cioè se c'è stato un test nucleare emettono più di tutte le centrali nucleari messe insieme quando io parlo di nuclear power di centrali all'interno della centrale ci possono essere più reattori nucleari non soltanto uno perché dobbiamo fare questo monitoraggio perché il nostro esercizio è quello di verificare se c'è una violazione del trattato quindi se io immagino un ordigno a fissione a uranio a plutonio con queste caratteristiche so che per una potenza di un kiloton ho questa emissione di xenon so che mediamente oramai si fanno sottoterra non li fanno ovviamente in atmosfera che a quel punto è chiaro e evidente vengono beccati subito nemmeno sott'acqua si fanno sottoterra e che quando si fanno sottoterra non tutto quello che si sviluppa viene rilasciato quindi immagino il 10% di quel rilascio di quel fallout che esce fuori quindi devo prendere una frazione di questa emissione per ogni kilotonne che devo osservare in questo rumore di fondo ecco perché il vantaggio che noi abbiamo è che a questo punto controlliamo tutti i reattori nucleari e a questo punto vi faccio vedere come si è lavorato con Fukushima quindi adesso c'è un filmato è in inglese ma anche la grafica è abbastanza intuitiva quindi sono stati fatti tutti i modelli di previsioni ovviamente poi dati agli stati membri in modo tale da poter realizzare tutte le procedure codificate in termini diciamo di emergenza nucleare qui avete visto un'animazione accelerata solo per esigenze ovviamente di presentazione e questa è quella famosa matrice di diluizione basata a quale poi con i dati sperimentali in ognuno dei punti dove abbiamo le stazioni sono indicate da questi simboli siamo in grado poi di ricavare la concentrazione di attività reale l'ultimo aspetto che mi preme evidenziare soprattutto perché la mia preoccupazione è soprattutto in Italia stiamo depauperando una conoscenza perdere questa conoscenza significa perdere coscienza come ha spiegato benissimo il presidente Mori quindi indipendentemente poi dalla scelta altri stanno svolgendo dei programmi nucleari li stanno sviluppando vorrà dire che saranno altri paesi fra 50 anni in futuro a occuparsi di sicurezza e di salvaguardia nucleare che comunque è un effetto globale e in questo contesto di non perdere le conoscenze la IAEA svolge delle attività che appunto denominate Atomi per la Pace cosa vuol dire? è stata insegnita il primo Nobel nel 2005 perché appunto per gli sforzi nel prevenire l'uso militare dell'energia nucleare ovviamente per fondamentalmente utilizzarla solo per uso pacifico questi sono all'epoca il direttore generale della IAEA Mohammed del Baradei e il presidente del board dei governatori diciamo della IAEA che poi è diventato successivamente direttore generale e qui voglio far vedere un esempio concreto ho iniziato con Fermi ho iniziato con una storia quella storia è stata caratterizzata ovviamente come tutti sappiamo da una guerra mondiale il CERN è la rappresentazione di cosa? di un insieme di scienziati che un istante prima erano su fronti opposti perché le nazioni alle quali appartenevano erano belligeranti un istante dopo hanno costituito il nucleo una futura Europa basato sul concetto che non doveva esserci una ricerca con dei segreti un progetto Manhattan e qui è lo stesso concetto esportato nel Medio Oriente qui siamo in Giordania ed è un progetto al quale ha partecipato anche l'Agenzia Atomica Internazionale sul modello del CERN perché? per far conoscere mettere insieme i ricercatori di paesi che non hanno nemmeno rapporti diplomatici tra di loro per cercare di costruire attraverso la conoscenza la coscienza dell'altro pace e sviluppo per una grande varietà di esperimenti in diversi tipi di scienze e applicazioni ranging da materiale scienze over biologica a cultural heritagia It will promote science it will establish quality science in the region and definitely the establishment of networks between scientists in the region and their colleagues and the other synchrotron labs around the world will definitely be enhanced IAA has played a pivotal role in supporting Sesame and pushing Sesame forward and providing fellowships, scientific visits, expert missions to SESAME. I helped train our regulators in terms of regulating the safe operation of the machine. Come dicevo, questo è, come è anche qui riportato, ispirato al modello del CERN. E concretamente quali gli obiettivi, le persone che lavorano insieme, lo potete vedere in questo video, si termino, della BBC, sempre su SESAME. La linea di comunicazione, magari non farà la paura alla regione. È molto valutante e molto importante per ogni regione, perché un paese non può avere una macchina di sincrotron. Qui siamo come scientifici, e i scientifici apprezzano alla humanità, non alla paese. Entrano che ci sono alcuni di usi politici, ma siamo qui per la scienza politica, ma siamo qui per la scienza. The work we do here can be used in many fields, including electronics, including engineering, including material science, so it will have many applications from cement to health. What we hope is that science will open the door to, for other or further understandings concerning other issues. Okay? This is what we hope. I mean, we begin with science and somehow we will open the doors that are closed for years or for centuries. Iranians, and Palestinians, and Pakistanians, scientists are my friends, because they are scientists. So we have a common ground. The common ground is doing research. We don't care about what is your religion, what is the color of your skin. We don't care about that. We only care about science. In science, there is no hostile. Okay? We are scientists, we are academic people. We are not dealing on political issues. I think the tsunami is a modern technology which helps to people around the Middle East to develop and improve their knowledge. I imagine a war would bring it to a stop, but we've been pretty close to a war, a very high tension level in the last few years, and somehow we've managed to keep going. We could have a couple of développions. So, who is my presentation with this guy, Sir Chris Lewis Smith, ex-diretore general del CERN, who with the Little CERN, and he's young, with a little compared to another with the Little CERN, Edouardo Amaldi, linceo and accademico delle scienze in Torino, who was part of the group who had started with Fell, who was a leader, who was working on the world, che ha speso tutta la vita, perché ovviamente ha vissuto il dramma, l'utilizzo dell'energia nucleare per uso militare. Ecco, a me piace chiudere in questo modo perché qui vedo un passaggio di testimone. Amaldi è stato il padre del CERN e di altre istituzioni scientifiche a livello europeo, e qui il giovane Hugh Smith che con i capelli bianchi ha realizzato una impresa come quella di Amaldi. Questo è importante secondo me dal mio punto di vista per il ruolo che rivestiamo, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che non hanno avuto per loro fortuna contezza della guerra fredda, che probabilmente non conoscono la storia che vi ho raccontato, e comunque il nucleare, anche abbiurarlo, non significa eliminare il problema. Quindi la cosa migliore è conoscerlo, è questo, quindi rappresenta il nostro dovere di continuare a passare il testimone come è rappresentato in questa foto, in particolar modo perché lo dobbiamo alle vittime di Hiroshima e Nagasaki, quello che è scritto nel memoriale, quindi per mantenere la pace di queste povere vittime, e soprattutto per non ripetere l'errore che è stato già commesso. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie professor Plastino. Vedo che sono arrivate delle domande da parte dei nostri ascoltatori, penso che il professore stesso le possa vedere, quindi gli cederei direttamente la parola per rispondere, nella misura in cui è possibile, non so se sia possibile rispondere a tutte quante, penso di no, un gruppo di domande, qualche scelta, una scelta. Dopodiché mi permetterò di riprendere la parola per ringraziare ancora meglio il professore, ma voglio prima sentire anche la risposta alle domande. Prego. Allora, c'è una domanda di Giacomo da Venezia, che mi chiede nella slide che ho fatto vedere le zone rosse di radioattività dei mari. Quella slide non è la radioattività dei mari, quelli sono i punti di misura. Relativamente ai mari, ovviamente noi abbiamo tutti i dati di radioattività nei sedimenti oceanici e ovviamente nell'acqua. Nella stessa zona prospicente l'incidente di Fukushima, quindi per contestualizzare la sua domanda. Quindi non si deve preoccupare se il map article lì è rosso, perché non è un'indicazione della radioattività. Condivido un attimo la slide nuovamente. Non so se vedete in condivisione il mio schermo. Vedete in condivisione il mio schermo nuovamente? Chiedo conferma, perché vorrei chiarire in base a questa domanda cosa rappresenta quella slide che ho fatto vedere di Maris, del sistema di informazione marina. Non ho risposta, va bene. Quei pallini rossi, per chi rivedrà la presentazione, stanno a indicare tutti i siti di misura, quindi non sono indicazioni della radioattività. È chiaro e evidente che il problema di monitorare una superficie come quella oceanica è avere delle stazioni che possono, da remoto fornire campionamento in base al quale poi questi dati vengono processati. Il laboratorio nello specifico che si occupa di radioattività marina si trova nel Principato di Monaco, costituito per volere del Principe Ragneri di Monaco. Per venire alla sua domanda, noi conosciamo la radioattività nei sedimenti, riferimento a questa zona che è ben monitorata, questo vuol dire. Quindi sappiamo gli effetti di Fukushima, dei rilasci, e gli effetti però anche dei test termonucleari che sono avvenuti in questa stessa regione. Cosa le posso dire? Magari le sembrerà strano. Fukushima è un evento impulsivo, anche se quell'effetto di rilascio è stato per un certo intervallo di tempo, ma rispetto ai test che sono stati realizzati lì e i rilasci cumulati che sono stati effettuati in quella stessa regione, la traccia di cesio dei test nucleari rispetto alla traccia di cesio di Fukushima, quindi del 2011, ancora vediamo quello dei test termonucleari. Quindi abbiamo traccia evidente sia nei sedimenti sia nell'acqua di quella che è l'effetto di quei test che sono stati realizzati. Ho fatto vedere un test Bacher, che cosa voleva dire? che è ben peggio di un rilascio di acqua di Fukushima, per intenderci. Un altro aspetto che mi preme, visto che mi fa questa domanda sui mari, ricorderete l'incidente della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico, della British Petroleum? Quello è un incidente che viene codificato come un incidente da idrocarburi, ma anche quello è un incidente nucleare, perché in quel caso, se ricorderete, l'incidente non è stato una nave, una petroliera, che ha rilasciato greggio dalla superficie, esattamente dal fondo, in un bacino, che ha una dinamica, adesso spiego perché, ben differente da quell'aria prospicente Fukushima, ha rilasciato direttamente del greggio, più di 600.000 tonnellate di greggio, è un fluido che non si mescola, ovviamente, come sappiamo, ha una densità differente da quella. Quel greggio è radiattivo, quel greggio a uranio, radio, che si è depositato sui sedimenti, quindi lì abbiamo uno sversamento, se facciamo dei calcoli, non indifferente, e quindi una traccia nucleare, quindi potrebbe un'altra volta sembrare un paradosso, anche quello è un incidente nucleare, non viene riportato all'attenzione dell'opinione pubblica, ma di fatto lo è. Perché? Perché contaminano quei sedimenti, il demivita del radio è di migliaia di anni, l'uranio ha un tempo di dimezzamento di 5,3 miliardi di anni, quindi diciamo l'età del nostro pianeta. Negli oceani, quindi noi abbiamo queste possibilità di fare questi controlli, e lo facciamo sia come controllo un'altra volta degli effetti, degli incidenti o di sversamenti anomali o procedure anomali delle centrali, e anche perché è un utile tracciante per lo studio della dinamica oceanica e quindi dei cambiamenti climatici. C'è una terza domanda di Andrea che chiede se sono stati studiati gli effetti degli esperimenti atomici marini sugli ecosistemi limitrofi e sui coralli, sì, sono stati effettuati studi anche sui pesci, una battuta che mi preme fare, però ovviamente è una battuta, prendetela come battuta, nel senso che io il sushi a cobalto l'ho già mangiato, voglio dire che quei test che vi ho fatto vedere hanno contaminato chiaramente gli ecosistemi, precedentemente a quella che è questa particolare attenzione invece a seguito degli incidenti industriali. Volevo collegare il motivo per il quale un incidente della piattaforma petrolifera è un incidente nucleare, tra virgolette è ben maggiore, se vogliamo, perché la circolazione del Golfo del Messico è molto ridotta. A largo della costa giapponese, potete verificare su un qualunque libro di test, esiste una corrente che si chiama Kuroscio, che è una delle correnti più intense. Il significato qual è? non si minimizza l'incidente nucleare, si studia semplicemente quello che è l'environmental assessment, l'impatto. La fortuna di avere questa corrente diluisce quel segnale. Se io sto fumando, un'altra volta sto in una stanza con le finestre chiuse, si accumula, lo percepisco perché quello fatto che qualcuno ha fumato. Se sto in una stanza con le finestre aperte e quindi ho un fattore di diluizione maggiore, lo percepisco di meno. Quindi il fatto che l'impatto si è ridotto per determinate condizioni nell'incidente di Fukushima è legato per esempio per quanto riguarda lo sversamento che è avvenuto, anche grazie a questa presenza di questa corrente che si chiama Kuroscio. Siccome più volte poi qualcuno mi fa la solita domanda, ribadisco, non sto minimizzando l'incidente. Per cercare di chiarire il concetto è questo. Se io prendo la macchina e a 200 km all'ora vado contro un muro, la mia probabilità di sopravvivenza è zero. L'incidente è gravissimo. L'incidente di Fukushima è nella scala Inis al grado massimo, quindi è un disastro. Se io da quell'incidente, quindi dall'impatto frontale a 200 km orari contro un muro ne esco vivo con le ossa rotta, uno dice miracolo. Benissimo. Lasciando da parte gli aspetti mistici, uno valuta a valle di questo incidente che l'effetto dell'incidente non è comparabile alla gravità perché sono sopravvissuto, dovevo morire ovviamente in un incidente frontale e sono sopravvissuto semplicemente con delle fratture. Quindi questo vuol significare non si minimizza l'incidente, si valuta qual è stato l'impatto reale di quell'incidente che nel caso per esempio Fukushima si fosse realizzato nella stessa posizione di Cernobili chiaramente l'impatto sarebbe stato maggiore. Gran parte si è diluito in un'aria anche nella parte atmosferica dell'oceano Pacifico e anche quello che è venuto nella parte fluida si è fortemente diluito per la presenza di particolari correnti. Sì, gli studi sono stati fatti quindi sui coralli, sugli ecosistemi limitrofi, no, il pesce lo può continuare a mangiare, mi si fa la domanda quali pesci non dovremmo più mangiare perché contengono troppa radioattività, probabilmente mi preoccuperei più della plastificazione degli oceani e di quanta plastica noi stiamo ingerendo in virtù del fatto che a loro volta i pesci si nutrono di plastiche. Mi si fa una domanda probabilmente legato a Radon dice serve davvero a reagire i locali per abbessare la radioattività naturale? Sì, il Radon come dicevo è prodotto dal decadimento alfa del radio 226 questo è un agente patogeno indicato dall'OMS come causa dei tumori ai polmoni per inalazione ovviamente a carico da prato digerente per ingestione il Radon è presente anche nelle acque quindi nell'acqua potabile dipende dalle caratteristiche del contenitore dell'acquifero quindi dipende se sta in un ambiente vulcanico o meno a reagire è sufficiente perché il Radon come abbiamo visto si produce a seguito nel decadimento alfa quindi il progenitore è un radio 226 quindi è ciccione ha un numero di massa 226 produce il Radon 222 è ciccione è una particella alfa che ha un numero di massa 4 quindi a seguito della disintegrazione quella che si chiama energia di rinculo va maggiormente a favore ovviamente di quello che è più leggero l'alfa e quindi il Radon viene spostato di poco migra poco quindi anche se all'interno diciamo del nostro materiale dei nostri manufatti c'è uranio e radio e si forma del Radon se non è proprio sulla superficie non può uscire questo gas rimane come dire intrappolato quello che esce può semplicemente essere abbattuto si dice quindi ridotto attraverso una normale ariazione quindi sì è uno dei motivi per il quale viene sempre consigliato a reggiare ambienti dove magari si può accumulare del Radon sì si abbatte poi un'altra domanda mi si chiede adesso questa cosa appena uscita del reattore numero 4 di Cernobile se si sta riattivando sostanzialmente no è chiaro è evidente che in una situazione di una configurazione post incidente bisogna monitorare ci sono una serie di sensori queste sono condizioni normali che sono legate ad effetti di infiltrazioni benché si fa si possa realizzare un sarcofago tenuto a stagno o più ci possono essere ci sono state delle infiltrazioni ma non c'è niente di che in questo momento possa come dire indicare il rischio di esplosioni no ho letto quello che è stato riportato ma chiaramente ha più un'incidenza giornalistica che scientifica queste sono le domande ho risposto a tutte le domande che vedo qui elencate adesso forse il presidente mi voleva grazie il presidente vuole soltanto ringraziare perché deve constatare che ha molti motivi di gratitudine e di ringraziamento nei confronti del professor Plassino innanzitutto per aver trattato una materia complessa in una maniera estremamente chiara estremamente precisa e vorrei dire anche avvincente e qualche volta mi riferisco soprattutto alla conclusione toccante il secondo motivo di gratitudine è che la relazione è stata di un'estrema obiettività questo mi ha fatto molto piacere una relazione che ha mostrato insieme luci e ombre una relazione che non ha nascosto le ragioni di preoccupazione che dobbiamo avere che possiamo avere di fronte al problema della radioattività anzi può darsi che questo dipendesse semplicemente dalla mia ignoranza ma il professor Plassino ha messo in luce anche delle fonti di rilascio di radioattività che mi erano ignote d'altra parte però ci ha in qualche modo rassicurato cioè ha indotto a limitare le nostre le nostre preoccupazioni proprio là dove forse siamo più indotti a non controllarla diciamo così per esempio soprattutto a proposito degli incidenti nucleari eccetera ma al di là del del maggiore e del minore preoccupazione che dobbiamo avere che mi sembra questo Plassino ci abbia aiutato a calibrare con maggiore consapevolezza mi pare importante il fatto che ci sia anche un messaggio di speranza che noi abbiamo delle fondate ragioni di speranza nel futuro mi riferisco soprattutto a questo all'impegno di collaborazione tra gli scienziati all'ultima parte quindi della della relazione cioè sembra che esistano ancora gli uomini di buona volontà per ora questi sono mi pare che indossino siano quelli che soprattutto indossano la casacca degli scienziati speriamo che a questi si aggiungano anche magari coloro che indossano la casacca dei politici e infine ci sono altre ragioni ci sono molte altre ragioni per ringraziare il professor Plassino ma una cosa che mi ha fatto molto piacere è il fatto che questa conferenza che abbiamo appena sentito può essere considerata un buon contributo al dialogo tra le cosiddette due culture cioè tra la cultura scientifica e la cultura umanistica e no scusando perché Plassino ha citato Manzoni e Giusti e perfino il film di Tornatore cosa che mi fa molto piacere come umanista e come cinepico ma la ragione fondamentale è un'altra molto più seria sappiamo tutti che lo sanno soprattutto forse gli umanisti che i colleghi sociologi antropologi politologi anche qualche filosofo non dico che si azzardino a parlare di radioattività facendone un oggetto specifico di trattazione però spesso la sfiorano la trattano in maniera tangenziale entra in qualche modo in discorsi appunto di carattere sociologico politico antropologico più vasto fare questo con una cognizione di causa maggiore penso che sia per loro molto utile e in questo senso il contributo che ci ha dato il professor Plastino è esemplare quindi ringraziamo ancora anche per questo oltre che per tutte le altre ragioni ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito penso l'abbiano fatto senza nessun sforzo senza nessun impegno sul diventare e comunque ringrazio lo stesso buonasera a tutti grazie grazie buonasera buonasera grazie